Il pallone mi ha dato tantissimo. Mi ha fatto incontrare persone magnifiche. Grandi campioni e gente comune. E ora comincia il secondo tempo della mia vita. Amore, ma è bellissima. No, non l'ho scritta io. È di Antonio Cassano. Guarda, a 35 anni, già lascia il pallone. È matto. Ma come è che hai la tua età? Vuoi ancora giocare? È perché è quello che sto a fare, amico. Non c'è un tempo per giocare, ma un tempo per vivere. L'hai già fregata una volta al tempo, Francesco. Che devo fare? La pasta? 50 grammi. Dolci? No. La cioccolata? Non dolce, non c'hai provata. Quella amara? Quanto non ti piace. La bomba la crema? Sto scherzando. Ma so che è complicata per voi. Ma sto braccato, no? Ti piace il lupetto? Gagliardo, eh? Ma non stai mai a saccerare. Ma un bar, il giornalaio. Qua vicino. Un par di chilometri. Sei da lontano a dove stai? Stai a Milano, è fidanzata e non segue il calcio. Questa è la malasposa. Io sarò sempre con te, però devi essere pronto. Ti arriva l'allenatore giusto? Altri due anni ce l'ho, pure tre. Totti, sempre Totti. Ma io alleno la Roma, non soltanto Totti. Ma ha puntato. Mi pare che il problema da Roma dove viene. Per me questo è tornato per Fatte Smith. Ti non vuoi mettere in testa che non sei più insostituibile. Ma ma la vera. Vediamo da che parte sta Roma. Tanto lo so che se ne oggi è domani, eh? Però almeno il finale lo voglio scegliere io. Io voglio il finale col botta, amore. Per questi cinque anni tutto è passato a Ponzoletta. Io ho paura che senza qua balla non so neanche chi cazzo so. Un viaggio, un amore, una vita. Ma poi, alla fine qualcosa di speciale l'hanno fatto.